Hello, this is Martin, here in Sibiu Romania. Welcome to the Red Bull Romaniacs. Sweet 16. Amici, buongiorno, finalmente ci siamo. Il Red Bull Romaniacs 2019 inizia e la prima cosa da affrontare è il prologo, quindi un percorso artificiale costruito nella via centrale di Sibiu. costellato di robe mai fatte prima, quindi questo è il grande problema, il fatto di fare degli ostacoli che solitamente nell'enduro non si fanno. Come al solito ce la metteremo tutta e vediamo cosa succede. Come on dammit! Come on dammi! Grazie a tutti. 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 La prima volta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.